Salve amici, in questo video andiamo a fare la prova della nostra telecamera endoscopica del Lidl, marca Powerfix Profi. Abbiamo già montato il gruppo batterie, qui dietro, le quattro batterie previste nella confezione. Abbiamo chiuso, abbiamo montato la nostra sonda a frusta, per comodità le do questa forma. Ho stampato un foglio in alcuni caratteri, stampato, con carattere Arial, corpo 11. Vedete? Per mettere a fuoco, perfetto. E con alcuni ritagli di questo foglio sono andato a tappare alcuni tubi di differenti diametri. Ok? Qui è un 46 mm, più o meno. Vedete? Il grande è un 46 mm, l'interno, questo qui l'interno è un 24 mm e questo è un comunissimo tubo dell'acqua. Siamo nell'ordine dei, può essere 15 mm su per giù, ok? Perché questo? Perché chiaramente la sonda, in base a diametro del tubo, avrà una resa più o meno buona. E quindi è il caso di verificare con dei tubi di differenti diametri. Ora, stendiamo la sonda quanto basta in linea retta per essere introdotta all'interno del tubo più grande. Accendiamo la nostra sonda. Abbasso un pochino la telecamera in modo che si possa vedere meglio il video. E inserisco la sonda qui dentro. Vedete? Già si intravede il mio foglietto di carta attaccato e ha una risoluzione che non è malvagia. Qui possiamo gestire i led, quindi dare più luce, più illuminazione. Devo dire che nonostante la mia mano vibra un poco, ha una discreta definizione. Stiamo trattando, stiamo lavorando sul tubo grande, quello da circa 46 mm di diametro interno. Ok? Qua c'è la possibilità di ruotare. Questo è il comando del display, della luminosità del display. Comunque buono. Con il tubo grande abbiamo una buona resa. Andiamo con il tubo intermedio. Questo è da 2,4, da 24 mm o qualcosa del genere. E allora, introduciamo la sonda. La nostra sonda da 8 mm. Abbassiamo un pochino la luminosità. La luminosità va solo in una direzione, va solo ad aumentare. Poi arrivata al massimo, se si pigia un'altra volta si spegne. Questa è la prima tacca di illuminazione. e comunque il tubo bianco conserva una buona definizione. Ok? Il discorso colore non è un granché. Nel senso che a monitor, nel monitor dell'endoscopia, mi sembra che i colori non siano molto nitidi, molto definiti. Parliamo di colori, eh? La definizione della telecamera non è malvagia. Chiaramente se avvicino troppo la sonda, va fuori fuoco. Va fuori fuoco e... e sgrana moltissimo. C'è l'ingrandimento, ingrandimento 1 e ingrandimento 2. Come vedete, questo è senza ingrandimento, primo ingrandimento e secondo ingrandimento. Ok? Bene, ora andiamo a fare il test con il nostro tubo di irrigazione nel giardino. Questo è un tubo usato, dentro un pochino sporco, tubo nero. Andiamo a vedere come si comporta la nostra sonda. E allora, forse il caso di... Ah, l'illuminazione c'è. Andiamo a vedere. Sembra lo spazio nero. Scusate, mi devo aiutare con due mani. Ora, il problema è che questo tubo, come vi dicevo, è un pochino sporco al suo interno. Ok, siamo arrivati alla fine. Cosa abbiamo qua? Abbiamo sicuramente troppa luce. Andiamo a diminuire la luce. Ecco. Si vede qualcosa. Si vede qualcosa di sporco. Si legge, sembra ICO. Faccio un ingrandimento. Faccio un secondo ingrandimento. Si è... Vedete? Ora, questo con un tubo sporco. Cosa succede col tubo sporco? Che probabilmente la porcheria... Man mano che introduco la... la sonda, la porcheria si va a depositare giusto sulla punta della sonda, dove c'è la telecamera. Cerco di avvicinarmi un pochino di più. Ecco, ora, è perché io so che forma ha, come è stato messo il pezzo di carta, ma immaginiamo di dover fare realmente un controllo alla cieca, diciamo, soltanto con la sonda, senza sapere cos'è che sta ostruendo il... il condotto. Forse in un condotto così piccolo, da 15 mm, avremmo qualche problema, perché la risoluzione non è delle... delle migliori. Ora, chiaramente, dovendo riportare il display della nostra telecamera al display, al video, qualcosa si perde. però io qua vedo semplicemente un tubo sporco e... e zozzo... non è malvagio, eh? Quest'endoscopio non è assolutamente un cattivo prodotto. Però, ovviamente, eh... di fronte a una marca tipo Bosch, o qualche altra marca più... più blasonata, eh... sicuramente la differenza c'è anche perché... eh... telecamere endoscopiche... eh... Bosch, Black & Decker, DeWalt, eccetera... costano attorno ai 300-350 euro, eh? Qui, eh... con 50 euro abbiamo una telecamerina. Devo dire di tutto rispetto. Con una frusta, una sonda di circa un metro, un metro e venti... beh... la definizione su questo monitor non è... non è malvagia. La voglio salvare. E si vede discretamente. Io, a vista, sul suo monitor lo vedo discretamente. Qua c'è... la possibilità di... gestire l'illuminazione del monitor... ma... va bene, va bene, dai... Ora spegniamo... andiamo a estrarre il nostro sondino... c'è un po' di porcheria attaccata... anche schifo toccarlo... e... non so se si vede... andiamo a mettere a fuoco... qualcosa si è depositato pure sulla punta... e comunque... dai... io posso... secondo me... questo... questa telecamera endoscopica... passa l'esame. Ehm... se... eh... ne volete fare un uso... professionale... magari il limite è dato dalle batterie... quindi insomma... procuratevi delle batterie ricaricabili... perlomeno 8... in modo che quando si scaricano... ne avete altre 4 da... da utilizzare. Ehm... una cosa che... non mi è piaciuta... è la cavetteria... eh... fornita... questo jack... non... non mi è piaciuto per niente... per collegare un... un display esterno... perché... questo tipo di jack... io sono 10 anni che non vedo telecamere e monitor compatibili con... con questo attacco... magari... sto dicendo una boiata... ma... eh... sicuramente avrei preferito un... un attacco mini USB... per collegarlo magari... a un tablet... cosa che oggi... eh... tutti i professionisti... i professionisti... idraulici eccetera... o meccanici... hanno... con sé... ehm... sicuramente più pratico da portare... rispetto a... ad apparecchiature... che ancora hanno... questo tipo di standard... di connessione... che normalmente... sono apparecchiature... ben più grandi... eh... e... difficilmente... e scomode da portare... poi che altro... ecco... eh... nei modelli più costosi... eh... trovate la possibilità... anche di registrare il video... e di fare anche qualche foto... quindi... eh... c'è l'alloggiamento per... per... eh... una mini SD... eh... qui non c'è... eh... magari... insomma... è un piccolo limite... però... sempre... considerate che qui state spendendo... 50 euro... eh... gli altri modelli... insomma... eh... vanno dai... 300 euro... in su... quindi... è... un buon compromesso... ok... ragazzi... comunque... eh... con questo... penso aver detto tutto... se avete delle domande... fatere... sarò lieto di rispondervi... eh... un... un like... non guasta mai... sul video... se vi è piaciuto... certamente... eh... iscrivetevi al canale... così... insomma... sarete avvisati... sulle nuove uscite... ok... alla prossima... vi saluto... ciao...